Amici di calciomercato.com Alessandro Di Gioia Ciao a squadra diversa Staremo a vedere, ti ascolto Vai, parto io Diciamo che stavolta abbiamo puntato un po' più in alto Siamo stati un po' sparagnini settimana scorsa Ma questa volta puntiamo per il colpo grosso Quindi una schedina con tanti punti Vado con i miei dieci Il primo è il Gallo Belotti Inutile, è impossibile non parlare di lui Visto quello che sta accadendo al Milan Visto il suo forte senso di appartenenza al Torino Ma anche la sua voglia di giocare in rosso-nero Io credo che possa essere il nome giusto per l'attacco del Milan Ci sono già stati recontati Verranno approfonditi Chiaro, ci sono delle audizioni Ma credo che anche proprio per il suo tifo Per la sua voglia di diventare un giocatore del Milan Possa essere avvantaggiato È dato a dieci il passaggio dal Granata al rosso-nero Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus Questo affare è dato a quattro Perché è già più probabile Sembra che ci possa essere questa settimana La fumata bianca Io lo gioco proprio perché è un'affare di cui stiamo parlando da tanto tempo Adesso con l'inserimento di Sturaro Come contropartita tecnica Sembra che la Fiorentina abbia accettato l'offerta della Juve Quindi può essere lui il nuovo esterno Dopo Douglas Costa a dare una mano A rinforzare la squadra degli Allegri Renato Sanchez dal Bayern Monaco al Milan Questo è un po' un colpo che nessuno si aspettava Ma che sta prendendo fuote nelle ultime ore Anche per le parole di Rummenighe E di Carlo Ancelotti Quindi ha dato abbastanza alto Quindi si parla di un prestito Bisogna capire se con diritto o con obbligo Si ruota intorno un po' alla formula Però ecco È un giocatore che potrebbe veramente far comodo Visto come ha giocato È giocato all'infetta Prima che Cristian Giudici abbassi la quota Perché le quote sono in perenne movimento Anthony Martial Martial potrebbe essere il colpo dell'Inter Il giocatore allo United non ha trovato grandissimo spazio Potrebbe essere l'uomo che va a dare una mano a Mauro Riccardi Per non lasciarlo più solo Anche se c'è Der Però ecco il francesino è sicuramente un colpo capace di far sognare tifosi Dato a venti sul trasferimento dai Red Devils ai Nerazzurri Riad Marez un altro colpo che può far sognare Dall'Eister alla Roma Nel solco di Salah Chiaramente che arrivò a Roma ed esplosia totalmente Possiamo fare lo stesso discorso anche per Marez Il trasferimento dai Le Foxis in giallo-rosso è dato a 15 La Roma ha fatto un'offerta L'Eister uguale a 30 milioni di euro Possibile che si trovi l'accordo Anche perché serve l'erede del faraone Che si è trasferito appunto al Liverpool Consiglio di giocare proprio come erede l'Algerino Marez Un altro colpo della Roma Che secondo me si deve rinforzare molto in attacco Defrel che può essere sia un attaccante centrale Quindi giocare al posto di Zeco Sia un esterno offensivo Quindi molto d'utile De Francesco lo conosce È un colpo che è dato a tre Anche in questo caso c'è qualche problema Per quanto riguarda la formula economica Penso che possa essere un giocatore Che tranquillamente arriverà sotto il Colosseo Mattio De Sciglio Nel Milan all'Alelo Juventus Dato a tre Sembra poter essere anche in questo caso La settimana buona Un giocatore che dovrebbe addirittura Forse partire per la tournée in America Con i bianconieri Dopo chiaramente aver svolto le visite mediche Un colpo che Allegri pregusta Da tanto tempo Un po' il suo pupillo Ecco Poi dopo l'arrivo di Bonucci in rosso-nero Ci può essere un altro viaggio Però questa volta in senso inverso Diego Falcinelli Dal Sassuolo alla Lazio Un Lazio che probabilmente cederà a Cretà Un Lazio che si deve rinforzare con un compagno per Ciro Immobile Il passaggio del giocatore che l'anno scorso ha giocato al Cortone Ma che però è di proprietario del Sassuolo All'Alazio è dato a 10 Quindi Keita Dalla Lazio all'Inter Di conseguenza come appena detto Anche se l'Inter chiaramente può puntare su diversi nomi per l'attacco Però ecco Quello del senegalese è un profilo che piace molto a Sabatini Io credo che uno tra Marziale e lui arriverà Quindi me li sono giocati tutti e due Bisogna utilizzare anche la tattica chiaramente Di coprirsi Quindi dato a 5 Chiudo con Brozovic Colpo in uscita invece per quanto riguarda l'Inter Anche con Spalletti Il Croato non si è inserito al meglio Penso che possa essere un giocatore Che viene utilizzato per fare cassa Magari ceduto all'Arsenal Che lo segue da parecchio tempo Dato a 15 Chiudo con 100 punti 100 Io ho qualcosa in meno Allora parto anch'io con Belotti Mila come hai detto te Anche secondo me il Gallo sarà Il nuovo centravanti rosso-nero De sceglie la Juventus Momenti caldissimi Giocatore giovedì può partire per la tournée con la Juve Ibra Manchester United Secondo me resta Al Manchester United Quota che è data a 10 Quindi Ibra niente MLS Ma rimane un'altra volta con Mourinho Mourinho ha aperto nella giornata di ieri Ha una sua permanenza Poi Mourinho non Roma Secondo me Arsenal Oggi perché i tabloidi inglesi Rilanciavano questa notizia Mourinho vuole fortemente l'Arsenal Mourinho è un giocatore che piace a Van Gherry La tipologia di giocatore è da Arsenal Bello ma non vincente E quindi Mourinho secondo me va all'Arsenal Medel che piaceva al Trabzosbord Piaccia al Boca Junior Piaccia anche al Valencia di Marcellino E secondo me I valenziani sono in pole position Che è data a 15 Un trasferimento in Liga Un ritorno perché lui ha vestito anche la maglia del Siviglia Poi Nian al Torino Paletta al Torino Conseguenza di Belotti Perché secondo me andranno nell'affare Che il Milan stanno imbastendo con i Granata Nian al Toro Dato a 10 Paletta al Toro Dato a 5 Poi Marco Verratti Esclusiva dell'altro giorno Il Barcellona con una nuova offerta 65 milioni più Rakitic Secondo me possono essere i giorni Giusti Il giocatore non si è allenato negli ultimi giorni Per un problema al ginocchio Però sappiamo che il mercato Fa anche questi brutti scherzi Quindi secondo me Verratti sarà un nuovo centrocampista Del Barcellona Quota da 10 Perché ci siamo Adesso domani arriva la Juve Aubameyang Non al Milan ma al Chelsea Anche in questo caso il Chelsea deve fare qualcosa in avanti Morata costa troppo Secondo i Blues 90 milioni di euro sono troppi Per Aubameyang Può bastare qualcosa in meno 80 milioni Sono sempre tanti Però il Chelsea ci prova Deve trovare l'erede di Diego Costa Secondo me può essere Il tedesco del Borussia Dortmund Quota data a 10 Infine altro colpo per il Chelsea Meno reclamizzato Però Danilo Il laterale del Real Madrid Seguito anche della Juve Prima dell'arrivo di Douglas Costa Sappiamo La solita storia degli extracomunitari Poteva arrivarne solamente uno per i bianconeri Quindi Danilo al Chelsea Dato a 5 98 punti non 100 Però ti sfido così Che bello che dire Una bella sfida 198 Quindi siamo veramente Abbiamo preso un po' piede Stiamo giocando quote più alte Esatto Siamo tornati quelli delle scommesse Durante l'anno Vi invitiamo a farlo anche voi Commenti come sempre Risposte Domande a Cristian Giudici Non a noi su Twitter Perché non vi rispondiamo No vi rispondiamo Rimandando io a Cristian Giudici Che andrà in ferie Prima o poi Ma sarà sempre attivo E presente È una promessa che ci ha fatto Off records A microfoni Noi invece siamo sempre qua Ci saremo ancora per un paio di settimane Quindi seguiteci Ci vediamo settimana prossima E a presto In bocca al lupo